Musica Abbiamo messo insieme tre giovani scrittori, già di fama, perché si parla molto dei loro lavori, che hanno scritto cose molto importanti su un tema di cui spesso la letteratura non si occupa, che viene considerato anche secondario rispetto ai grandi temi della letteratura, il calcio. Poi però succede che il calcio e lo sport in generale, perché poi questa cosa vale anche per lo sport, sia al centro dell'attenzione nazionale e, se guardiamo agli ultimi mondiali, internazionali. Quindi non si capisce perché ancora ci debbano essere argomenti di serie B rispetto ai grandi argomenti letterari. Questo credo che sia un tema centrale per cui abbiamo voluto fare un incontro come questo. Dall'altra parte è anche vero che si può costruire, come hanno fatto i nostri ospiti con i loro libri, dei percorsi in cui lo sport e il calcio in particolare possono essere chiavi di lettura della società in generale, ma anche della società italiana in particolare, alcune storie di grandi personaggi del mondo calcistico e della vita quotidiana che ci appartiene. Poi parleremo anche di media con Moriso Compagnoni, che io ringrazio per essere qui con noi questa sera e per raccontarci quell'altra narrazione, che è la narrazione televisiva. Ci sono due narrazioni questa sera protagoniste. Da una parte quella televisiva, che è quella che arriva a tutti, quella di massa, insomma quella che in qualche modo fa i grandi numeri, ma non solo in qualche modo, fa i grandi numeri, e riesce chiaramente a far arrivare i fatti dello sport e del calcio a tutti attraverso la potenza del mezzo televisivo. Dall'altra c'è la capacità di giorni scrittori, che sanno affrontare al loro modo gli stessi temi e ci danno un altro punto di vista. Io ho letto alcuni di questi loro libri, che poi uno a uno verranno presentati da Paolo Di Paolo, e credo che si possa dire che non solo esce fuori il fatto calcistico, ma esce fuori come attraverso una città come Napoli, attraverso il calcio si possa leggere l'Italia e si possa leggere anche la quotidianità di questo Paese. Ma partiamo da un argomento preciso, e non voglio allargare subito il punto di vista, perché la serata aveva un titolo che quando io ho messo speravo che fosse di buon auspicio. Dopo i mondiali pensavo che almeno di qualcosa di importante potessimo parlare, certo non della vittoria, ma almeno di un percorso dell'Italia meno drammatico di quello che abbiamo vissuto. Ammesso che il calcio sia un dramma, ma a vedere la gente piangere dei vari escusi, delle varie nazioni, mi pare che non sia un dramma solo italiano. Poi chiederò a Maurizio che ha vissuto in prima persona le vicende, puoi anche già prendere il microfono perché la prima domanda la faccio a te. Dico, i nostri neanche piangevano perché manco c'erano. L'Italia era l'unica nazione in Brasile che non era rappresentata a tifosi tranne rarissime eccezioni. Qui ci sarebbe anche da interrogarsi perché, faccio un esempio, c'è il rugby, vanno in 30.000 in Irlanda italiani a vedere la partita, poi magari vediamo la stessa partita trasmessa in televisione che fa un trentesimo della partita di calcio. Partita di calcio in Irlanda non va nessuno, però magari la vedono in 10 milioni, è una cosa strana. Comunque italiani in Brasile non ce n'erano. Allora, partiamo dal Brasile e magari tu ci fai la prima narrazione quella del commentatore in diretta dei fatti calcistici che ha visto le cose in prima persona e che sa anche dietro le quinte che magari l'italiano normale non conosce perché non conto è vivere un cambiato mondiale attraverso la televisione, non conto è stare lì e vivere giorno per giorno le vicende. Che hai capito? Una cosa, che cosa ci hai raccontato? Un'altra cosa, che cosa hai capito del Brasile e del mondo calcistico in questo momento, insomma, attraverso quello che hai visto? Dell'Italia ci hai già detto, insomma, che il problema centrale è che tutto sommato questo paese non ci gradeva l'Italia, perché al di là della crisi che vive e forse il viaggio in Brasile era un'avventura un po' troppo complicata per gli italiani, mentre magari per gli sudamericani era possibile, noi, insomma, chiaramente, poi dopo ci sono le nazionali... Sì, però anche lì, in Spagna 82, all'inizio i tifosi italiani non c'erano, poi sono arrivati in massa quando hanno cominciato a capire che poteva nascere qualcosa di importante, ci sarebbe da interrogarsi, ma magari faremo un commegno su questo tema in futuro, che il tifoso italiano è un po' particolare, il tifoso italiano per la nazionale non si muove. Intanto faccio un'analisi calcistica di questi cambiati mondiali. Innanzitutto abbiamo parlato del Brasile, una cosa di cui ero convinto, e che eravamo un po' tutti preoccupati, prima all'inizio del mondiale, perché c'erano tutte queste contestazioni, manifestazioni anche molto dure, molto dure. Io ero uno dei pochi fuori dal coro che diceva, secondo me, come parte il mondiale, si ferma tutto, perché il popolo brasiliano ama troppo il calcio, e il mondiale per loro, che loro avevano in casa dopo 64 anni, è un evento troppo straordinario per rovinarlo, e infatti, magicamente, come è iniziato il mondiale, sono finite le contestazioni. Non a caso, Dilma Rousseff, il Presidente della Repubblica, aveva perso durante le contestazioni, tipo i 10 punti, li aveva quasi tutti recuperati durante i mondiali, cosa strana, che c'entra lei, ne ha riperso una buona parte per la debacca del Brasile, ma questo è un altro discorso. Un'altra cosa dei brasiliani che ho notato è che dopo il 7-1 della Germania, tutti pensavamo, anche perché abbiamo letto tante volte del Baracanaso, del 50, quando ci furono suicidi, non dico di massa, ma ci furono diversi suicidi, purtroppo dopo quella clamorosa sconfitta in finale, stavolta invece il 7-1, io sono uscito la sera nella zona più modaiola di Rio, alle Blon, magari, non so, nelle favelas c'è stato un altro atteggiamento, in Brasile l'ho visto tutti tranquilli, addirittura che ridevano scherzavano, non ho visto nessun dramma collettivo, assolutamente. Detto questo, narrare il mondiale in Brasile è stato molto bello perché innanzitutto è stato un bel mondiale a livello qualitativo e poi è stato anche un bel mondiale a livello di partecipazione di pubblico, ripeto, a parte l'Italia, che noi siamo un caso a parte, se vogliamo a me va benissimo così, perché siamo un popolo molto televisivo, che preferisce stare davanti al televisore che magari andare a seguire le grandi manifestazioni. Questo per me era il terzo mondiale, ho anche un europeo in Portogallo, ma lo stesso mondiale in Germania, era pieno di italiani, ma erano italiani che vivevano lì, ne partivano pochissimi dall'Italia, fermo restando, che poi quando siamo andati in semifinale, finale, voleva partire mezza nazione. È stato un mondiale molto bello, pieno di colori, con tanti tifosi, ogni stadio era una festa, carico di emozioni, io ho trovato anche bellissime le lacrime di quei tifosi che vedevano loro squadre eliminate, insomma il pianto incontenibile di quel bambino dopo il quarto, quinto gol della Germania, bambino ovviamente brasiliano, io ho trovato molto bello, mi è dispiaciuto per quel bambino e mi ha fatto una tenerezza infinita, però è stato molto bello, perché è un modo anche di esternare le proprie emozioni, oppure io ho trovato molto giusta la scelta della regia internazionale, che poi ecco non è la regia brasiliana in questi grandi eventi, è la FIFA che produce l'evento televisivo, di puntare molto sugli stacchi sul pubblico, perché abbiamo visto delle immagini bellissime, coppie che festeggiavano, il bambino che piangeva, il bambino che urlava di gioia, la ragazza che abbracciava il fidanzato pazza di gioia, come se le avesse regalato l'anello della sua vita, è stato molto bello, io ho qualche, come tutti penso di voi, ho degli amici che frequentano le curve, anche in passato ho discusso, ad esempio trovo molto stupido spendere un sacco di soldi per i fumogeni, così che trovo veramente demenziali, non servono a nulla, anzi sono anche secondo me antiestetici, costano anche dei soldi, trovo molto bello invece andare a cercare queste emozioni, queste immagini sul pubblico. Io anni fa andai a fare un reportage abbastanza singolare in Kazakistan, che soprattutto all'epoca, parlo del 2001 forse, adesso mi dicono che è cambiato molto, però è un crogiolo di razze, c'erano le qualificazioni mondiali per il 2002, c'era la finale che era Kazakistan, credo Iraq, quando c'è stato il gol, io ho detto all'operatore, lascia stare la partita, tanto ce la giravo la TV Kazaka, concentrati sul pubblico, e c'è questa carrellata di 40 secondi meravigliosa, dove vedi che esultano tutti per lo stesso gol, il mongolo, il kazako, il tedesco, perché lì ci sono anche molti di origine tedesca, deportati ai tempi di Stalin, il cinese, perché lì eravamo a Dalmati, al confine con la Cina, il russo, perché ovviamente ci sono anche tantissimi russi, cioè c'erano 7-8 etnie completamente diverse, che esultavano tutti per lo stesso motivo, per lo stesso gol. Ecco, in Brasile, devo dire, una parte bellissima del mondiale è stata la reazione dei tifosi, il loro comportamento allo stadio, che è stato molto bello, non c'è stato un incidente che uno, ma non c'è mai in queste grandi manifestazioni. Io dico sempre, anche certi personaggini che animano le nostre curve, io li manderei magari in missione a vedere quello che accade in queste manifestazioni, e probabilmente si renderebbero conto di essere fuori dal mondo, di vivere una realtà che non esiste e che è profondamente sbagliata. Poi, vabbè, sull'aspetto tecnico, secondo me ha vinto la squadra più forte, la Germania, che peraltro ha dovuto rinunciare anche al suo giocatore più forte, che è Marco Reus, che si è fatto male poco prima dal mondiale. Tu mi dicevi prima dell'Italia, speravi, noi non ci siamo sentiti precedentemente, altrimenti ti avrei detto, non era il caso di farsi grandi illusioni, ma lì il discorso sarebbe un po' troppo tecnico, che esula un po' dal tema della serata. Allora, io farei prima un giro con tutti voi, quindi cominciamo con Antonio Urrato, a quale voglio chiedere come te l'immaginavi e come l'hai vissuto questo mondiale? E poi andiamo ad altre domande. Allora, lo immaginavo come tutti i passatisti, fra i quali mi schiero con orgoglio, lo immaginavo come la replica del mondiale del 50, quando mi era stato chiesto un pronostico, ho detto, no, vince l'Uruguay, banalmente perché, dicevo, una squadra di cagnacci mostosi, si è visto poi effettivamente cosa è successo, sono avversari tignosi, sono persone che corrono poco, hanno i contropiedisti, li farà caldo, e poi, esatto, mordono, che insomma, adesso non voglio dire cose impopolari, però insomma, dire che una nazionale viene eliminata da un'altra perché un calciatore ha morso un altro, è un po' eccessivo. E ritenevo che effettivamente soprattutto questa immaginaria vittoria dell'Uruguay sarebbe stata, come dire, una specie di vendetta della storia. Era Manzoni, no, che diceva che la storia è una vendetta gentile contro il tempo e anche il calcio, in qualche modo. Alla fine, noi ogni volta che iniziamo a guardare una nuova manifestazione sportiva di queste cicliche, soprattutto che si presentano ogni totti anni, come il mondiale di calcio, siamo sempre divisi dal desiderio di novità, cioè dal vedere come va a finire. Questo vale un po' anche come quando leggiamo un romanzo, cioè vogliamo sapere chi è l'assassino, oppure se alla fine si sposano, eccetera. Però in realtà quello che noi vogliamo fare è il recupero del passato. Cioè noi guardiamo i mondiali, abbiamo visto i mondiali del 2014, con l'idea di rivedere in questi mondiali i mondiali del 2010, dell'86, del 90, del 50, anche per quelli più vecchi. Cioè abbiamo cercato in qualche modo di individuare nella novità che il calcio propone, in questo caso ogni quattro anni con i mondiali, il segno di una continuità. Perché? Perché quella continuità è la testimonianza della nostra vita, del fatto che noi continuiamo a esistere. E che come c'eravamo quando c'è stata la Germania-Argentina in finale dei mondiali dell'86, come c'eravamo per la stessa Germania-Argentina del 90, così c'eravamo anche a quella del 2014. E' un atteggiamento un po' strano, perché il calcio è così, cioè il calcio da un lato è una linea retta, continua, gli albi d'oro vengono aggiornati, aumentano, diciamo, vengono incrementati appunto da nuove statistiche, si allungano sempre di più le liste dei vincitori che vengono, come dire, incise sul fondo delle coppe. Dall'altro lato però alla fine il calcio in realtà è una spirale, è un continuo tornare su se stesso, sono questi cicli poliennali che appunto le persone più brave e più fortunate di noi come Maurizio Compagnoni o, non cito a caso, Roberto Beccantini, Gianni Mura, insomma i grandi giornalisti che hanno la fortuna di continuare ad andare a vederli di persona, si rendono conto che in qualche modo loro non fanno altro che entrare in questa spirale che di quattro anni in quattro anni ripete più o meno sempre lo stesso ciclo. E alla fine questo ciclo è la testimonianza di quello che un grande scrittore spagnolo, Avie Marias, definiva il recupero settimanale dell'infanzia. Cioè lui diceva noi ci appassioniamo ogni domenica a guardare la partita, nel suo caso del Real Madrid, nel nostro caso di altre squadre, perché in realtà quella domenica è il giorno in cui noi ci ricordiamo che siamo la stessa persona di quando eravamo bambini e ti favamo per quella squadra. Mi parla una risposta molto interessante la tua. Facciamo, finiamo il giro, ognuno racconta immaginazione e realtà. No, innanzitutto buonasera, io per quanto mi riguarda il mio approccio a questo mondiale, io in questo mondiale cercavo una grande narrazione, il mio debito passatista in qualche modo diciamo era legato a cercare la sorpresa, così come poteva essere Totò Schillaci negli anni 90, così come invece magari potevano essere le avventure di squadre minori che poi arrivano alle fasi finali, come la Bulgaria nel 94, che arrivano in semifinale contro l'Italia, e poi la grande storia di Roberto Baggio, per esempio. Cercavo veramente una di queste storie, che poi alla fine, forse non lo so, ma in questo mondiale probabilmente non c'è stata. Tutte le grandi avventure, tutte le grandi sorprese si sono fermate prima delle partite che contavano maggiormente, visto che poi in semifinale sono arrivate delle squadre tecnicamente molto valide, molto forti. Forse la grande sorpresa è stato quel 7-1 che veramente ha lasciato tutti quanti basiti in qualche modo. Però l'aspetto della grande narrazione forse c'è stato, è mancato l'acuto, è mancata la storia del grande campione che poi, come poteva essere Messi, che poi alla fine in qualche modo ha mancato forse le ultime partite e le partite importanti. Questo era quello che io cercavo. Probabilmente nel calcio la grande narrazione c'è sempre, in questo caso, forse è stato il mondiale più narrato di quelli degli ultimi anni, in qualche modo. C'era la componente così storica, l'elemento della location. Il Brasile era naturalmente il luogo perfetto per giocare il mondiale. È stato raccontato come il mondiale dei mondiali. Probabilmente ci sono stati dei mondiali più appassionanti, mi viene in mente, a memoria d'uomo, cioè quelli che io potevo vedere in quanto presente davanti alla televisione, il mondiale 86, anche il mondiale 82, probabilmente sono stati dei mondiali anche più appassionanti di questo. Però questo è stato chiamato il mondiale dei mondiali perché naturalmente si giocava in Brasile. Personalmente, come dire, mi è mancato proprio questo, mi è mancata una grande storia, come poteva essere quella della Grecia, gli europei del 2004, che dal nulla arriva con una modalità tattica in qualche modo anche passatista, cioè ponendo la figura del libero, recuperando la figura del libero, riesce a mettere sotto scacco tutti gli squadroni e a vincere. Alla fine ha vinto la squadra più forte, ha confermato l'idea che nel calcio moderno probabilmente le favole sono molto difficili da realizzare perché appunto ormai man mano che la tecnologia, il tempo che passa, le modalità di allenamento, è facile che le squadre più munite tecnicamente, le squadre più adatte alla preparazione, le squadre più abituate a vincere, riescono poi ad ottenere il trionfo finale. Quindi quello che mi è mancato è stato proprio la ciligina sulla torta, è stata proprio la storia letteraria, diciamo, in qualche modo. Però me lo sono goduto tutto dall'inizio alla fine. Mi ricordo se Savio o D'Arcangelo hanno scritto nel loro libro o in qualche cosa che l'ho visto in un blog vostro che oggi il calcio può essere paragonato ai grandi paladini delle chansons de geste, no? Del meglio. Tu le schiste. Penso che sia molto giusta questa lettura. per esempio ti chiedo secondo te quali sono stati i casi lo chiedo a lui ma lo chiedo a te i casi in cui hai visto personaggi quasi che si sono stagliati come figure superiori in questo cambiato mondiale. Insomma, chi ci rimane nella mente? Ma anche per inizio a tutto buonasera a tutti e anche per rilacciarmi a quello che stava dicendo Giancarlo credo che la figura letteraria ci sia stata in questo mondiale sia stato Suarez e a differenza di quello che diceva Antonio io non speravo in una vittoria dell'Uruguay ma avevo la certezza che l'Uruguay sarebbe riuscito a vincere questo mondiale tant'è che mi ero sbilanciato nel libro che mi era stato chiesto di scrivere e avevo immaginato l'edizione del 2014 come una ripetizione del Maracanazzo e nella vicenda poi romanzesca romanzesca del padre che racconta a un figlio di 2-3 anni la storia della finale del 2014 che al momento della narrazione non aveva ancora vissuto andando quindi a ripescare la finale del 1950 con tutti gli aspetti di cui è accennato anche a compagnoni quindi aspetti drammatici di suicidi che poi fortunatamente non ci sono stati e in Suarez oltre a essere uno dei miei giocatori preferiti da diversi anni vedevo l'artefice probabile di un successo che poi non c'è stato e forse solo lui proprio per questa vicenda poi ingigantita spesso quando accadono cose estreme perché sicuramente si è trattato di una situazione di questo tipo la viviamo anche con le dichiarazioni assurde di tavecchio di questi giorni poi si crea un meccanismo incredibile di ripetizione del gesto come nel caso di Suarez di giustificazione di difesa e forse lui pur non vittorioso mi pare l'unico che sia riuscito forse più di Messi Ronaldo e altri campioni molto attesi a incarnare questa figura e sulla vicenda Barottelli per esempio che secondo me va analizzata in maniera un po' più fredda adesso perché a caldo sono state dette delle cose assolutamente non non meditate secondo me sia dai molti commenti giornalisti sia insomma dall'opinione pubblica perché poi c'è stata anche un'opinione pubblica su Barottelli Barottelli in questo Olimpo dove lo collochiamo? ma innanzitutto io sono di Brescia quindi di Barottelli posso parlare come di Pirlo al quale assomiglio infatti mi dicono sempre tu sembri Pirlo infatti assomigli io dico sempre che tecnicamente sono superiore a Pirlo solo che non ho avuto il carattere e tutte queste cose per sfondare no Barottelli è un individuo particolare poi come lo stesso Pirlo essendo nato a Brescia ho avuto la fortuna di sentire in città già quando aveva 15 anni 16 anni Pirlo si sapeva che era veramente forte e poi aveva questa particolarità di portare lo stesso nome dell'aperitivo principe della città perché a Brescia c'è come a Padova c'è lo spritz a Brescia questo aperitivo si chiama Pirlo e quindi sembrava come un richiamo del e cosa c'è nel Pirlo? dicelo perché che aperitivo è? la ricetta del Pirlo si può scegliere Campari e Aperol io consiglio Campari e poi c'è spritz e poi un vino bianco che può essere sia frizzante per essere veda dei buoni bianchi tutta la Franciacorta e quindi adesso sto parlando di Pirlo Balotelli è difficile da giudicare bisogna forse intendersi ma qui c'è persone che conoscono l'aspetto tecnico meglio di me sul fatto che sia un campione oppure no nella mia esperienza di quasi quarantenne penso di aver visto dei campioni dei fuori classi anche a livello linguistico e televisivo spesso oggi poi si danno delle definizioni che sono assurde riferite a certi giocatori che poi non hanno fatto niente rispetto a Platini o Maradona o altri campioni veramente assoluti quindi Balotelli o Icardi o altri giocatori che mi sembrano sopravvalutati in virtù delle loro qualità da utilizzatori di social network rispetto che da campioni reali Balotelli fino a qualche anno fa speravo e credevo che fosse un giocatore molto importante e straordinario ma aveva 20 anni ora che credo ne abbia già 24 25 bisogna credo che siano gli ultimi anni in cui lui può tentare di dimostrare qualcosa e in ogni caso sia Balotelli che Cassano per dare ragione a Lippi ma anche non affiderei mai una squadra a Balotelli e a Cassano e quindi anche l'idea che questa nazionale si basasse su questi due fin dall'inizio non mi faceva ben sperare in più c'è il fatto il fatto dello scetticismo di cui si parlava prima quello è verissimo come è anche vero che gli italiani arrivano sempre quarti di finale in semifinale perché sono molto abili a salire sul carro quindi poi anche a volte basta anche un palo o un gol segnato per cambiare il corso di un mondiale anche se forse questo non era il caso su Balotelli facciamo esporre anche Maurizio ci proviamo soprattutto io direi oltre che Balotelli non da solo magari una valutazione tecnica su reale valore di questa Italia prima ci hai detto qualcosa di preciso ma forse qualcosa di più ci puoi dire allora su Balotelli io per anni sono stato molto in difficoltà perché allora io mi accredito il merito di ragionare con la mia testa e non inseguire i luoghi comuni che detesto e il calcio italiano segue i luoghi comuni in modo imbarazzante se 3-4 opinion leader si mettono in mente che scacca Barozzi adesso mi è venuto il nome che fa ridere che poi è un giocatore vero che sta in cieca e bravissimo che è un fenomeno automaticamente dopo una settimana è un fenomeno per tutti dal tifoso che va a salto attualmente alla partita anche ai vari cronisti ai vari giornali e televisioni io ragiono con la mia testa tra l'altro la prima volta che comente Balotelli in un'interfiorentina c'era mancino allenatore che fece un gol bellissimo andando in porta con tutta la palla scartando il portiere insomma però visto le volte successive ogni volta che lo vedevo avevo la convenzione che in realtà era un blef un blef non vuol dire che sia un giocatore scarso per carità ma assolutamente non il giocatore che veniva dipinto nel dettaglio quando mi dicono però ha un fisico pazzesco certo dopo la Germania che si è tolta ha fatto vedere gli addominali esteticamente non so poi magari il volto può piacere non può piacere ma penso alle signore e alle ragazze qui presenti abbia suscitato delle discrete emozioni ma non deve fare il modello calcisticamente non ha un gran fisico perché il contatto fisico con il difensore non lo tiene di testa non salta è alto la prende ma non è che c'è una grande elevazione nel breve di una lentezza imbarazzante l'assist non ce l'ha perché non c'è il tocco puli ha un tiro favoloso è forse il numero uno al mondo come calciata fermo emblematica la partita col Bologna quando Setorf disse Malotelli non è un campione lui fece una partita per 80 minuti penosa contro il Bologna poi all'improvviso da 35 metri decise di calciare e mise la palla all'incrocio e solo lui lo poteva fare e presero per i fondelli Setorf no Setorf aveva ragione Malotelli ha un grandissimo tiro per il resto non è un campione perché tutte le altre qualità ne ha una che una e soprattutto non c'ha la testa per essere un campione Inzaghi aveva ovviamente meno talento di Balotelli ha un'altra testa e ha fatto la carriera che ha fatto l'Italia al mondiale non poteva fare nulla tant'è che io mi sono piacevolmente stupito del bellissimo esordio con l'Inghilterra per un semplice motivo che Prandelli che ritengo un ottimo allenatore non so per quale motivo poi girano tante voci ma non è il caso di affidarsi al gossip è arrivato Prandelli d'Orzinovi poi Bresciano anche lui è arrivato al mondiale in totale confusione senza nessuna certezza ha perso tutte le certezze al mondiale non può arrivare senza certezze Lippi nel 2006 è arrivato con delle certezze granitiche aveva una squadra più forte ha vinto il mondiale nel 2010 lo stesso Lippi con una squadra inferiore è arrivato senza certezze ogni partita cambiava sistema di gioco ha fatto una figura peggiore di quella del 2014 perché ha fatto due punti in un girone patetico Prandelli quando ho visto nell'amichevole premondiale che cominciava a cambiare dei moduli che non aveva mai fatto ha detto qui andiamo incontro a fallimento poi la prima partita mi riconoscemente è andata bene certo se Balotelli non si dipure con la Costa Rica magari stiamo a raccontare un'altra storia però purtroppo quando arrivi senza certezza un mondiale è facile che poi incontro il fallimento come sembra la tua analisi è perfetta insomma è difficile trovare una cosa che non funzioni in questi meccanismi posso raccontare un'aneddoto su Balotelli solo che lo dovrebbe raccontare lui perché bisognerebbe fare l'accento per dirvi il personaggio che poi è molto genuino ecco mia moglie ha già capito che sto per dire perché ci è stato raccontato un dirigente dell'Inter in vacanza in Spagna del leasing lo racconto? no non lo racconto no vabbè insomma Balotelli è entrato nello spogliato tutto felice perché aveva regalato due auto ai suoi fratelli e non le aveva pagate il compagno dice come non le pagate e no me l'hanno dato il leasing il leasing non si paga è tutto vero ma lui è fatto così allora cambiamo discorso un po' ricominciamo da curato a quale chiediamo come sei approdato tu illuminista a a scrivere di una cosa così lontana dalla filosofia e dai temi che hai affrontato nella prima parte della tua attività cosa hai trovato nel calcio fondamentalmente per arrivare a pensare che poteva essere un approdo diverso insomma del tuo percorso letterario io tendenzialmente scrivo tutto tutto ciò per cui mi pagano però comunque al di là di di questo no in realtà io non tendo a non fare grandi distinzioni fra ma sì letteratura sportiva letteratura non sportiva qualche anno fa ero andato in un è arrivato Paolo Di Paolo intanto dopo questo annuncio alle folle osannanti ecco qualche anno fa avevo provato a fare questo esperimento Paolo Di Paolo ha dimostrato che a distanza della San Mettocci ma poi non è così incolmabile si può colmare ecco possiamo grazie allora avevo fatto questo esperimento per capire se veniva percepita la veniva percepita la distinzione fra questi settori editoriali letterari ero andato in un liceo di Lodi posto che non vi consiglio particolarmente proprio il liceo in particolare e avevo chiesto ai ragazzi voi mi riuscite a dire chi è però possiamo anche rifarlo stasera l'esperimento mi dite qual è il primo autore che ha scritto letteratura sportiva nella storia scena muta ovviamente come? Brera no è prima è anteriore niente nessuno niente Omero Omero nella Iliade inserisce all'interno di un canto la cronaca di una gara sportiva di corsa di cavalli che è completamente inutile ai fini della trama ed è grosso modo una via di mezzo fra la cronaca giornalistica appunto come la farebbe un ottimo telecronista e il ricordo che noi tifosi avremmo di di quell'evento sportivo Omero in quel momento non fa nessuno stacco fra la narrazione della trama dell'Iliade così com'è e la narrazione della letteratura sportiva all'interno della cosa proprio perché non la concepisce lui ritiene che comunque lui sta raccontando uomini che fanno delle cose e che queste cose siano finalizzate alla conquista di Troia o siano finalizzate a vincere banalmente a conquistare la gloria della vittoria di una corsa di una corsa di cavalli per lui è completamente indifferente ora io ritengo che se Omero non faceva queste grandi distinzioni non è il caso che lo facciamo nemmeno noi a me piace molto raccontare le persone piace molto cercare di capire cosa pensavano prima insomma in maniera un po' generosa mi hai definito illuminista non lo sono altrimenti sarei morto da 250 anni cosa che per fortuna non è avvenuta io mi occupo di una cosa noiosissima della quale non vi parlerò cioè l'esegesi biblica nel settecento francese questo è il motivo per cui vengo abitualmente pagato quotidianamente però in realtà alla fine l'animus che mi muove è esattamente lo stesso cioè il cercare in qualche modo di capire perché le persone pensano in una determinata maniera cercare di capire perché le persone agiscono in una determinata maniera e questa curiosità di recente quando ho iniziato a scrivere anche per Quasi Rete che è il blog letterario della Gazzetta dello Sport che vi consiglio QuasiRete.gazzetta.it mi è stata mossa da un episodio particolare c'è un recente autore sportivo che è lievemente difforme da Omero che si chiama Tiziano Crudeli che forse avrete sentito nominare Tiziano Crudeli è cioè dopo Omero è stata la persona che ha portato maggiore innovazione alla narrazione sportiva quando nel credo agosto del 1995 il Milan giocava la prima giornata col Verona il famoso gol di Weah che era stato fatto su calcio d'angolo per gli avversari 96 esattamente 96 esattamente calcio d'angolo per il Verona Weah prende palla sul limitare della propria area di rigore corre travolgendo gli avversari e segna e dopodiché viene ammonito perché si è tolto la maglia Tiziano Crudeli dovendo raccontare questo evento rendendosi conto cioè lui era un po' come la Madonna di fronte all'Arcangelo Gabriele cioè si è reso conto che era qualcosa di assolutamente superiore alle forze della narrazione umana quindi ha pensato bene di raccontarlo non più con delle parole ma ripetendo il nome di Weah parossisticamente man mano che Weah continuava a correre prima ha detto Weah normalmente come avrebbe detto un qualunque cronista poi ha continuato a ripetere Weah, Weah, Weah urlando sempre più velocemente poi togliendo la U all'inizio e proprio limitandosi a strillare le vocali esattamente e poi diventando cianotico alla fine mentre urlava l'ultima A quando Weah aveva appunto segnato e stava già esultando e lì lui ha avuto un'idea geniale cioè lui ha detto io di fronte a un evento sportivamente irripetibile sostituisco l'urlo alla parola perché devo in qualche modo descrivere l'ineffabile e in questa maniera lui cosa ha fatto ha inventato proprio ha codificato l'assoluta narrazione pop dello sport il problema è stato che successivamente specie sulle reti locali ma non solo ma ovviamente non mi metto a fare i nomi perché non mi sembra elegante è successo che come sempre accade nella storia dell'arte e della letteratura il pop reiterato e volgarizzato è diventato kitsch quindi la cosa sovrumana è che Tiziano Crudeli aveva visto fare a Weah tanto da restare senza parole è diventata in realtà una specie di riproposizione abbastanza ritrita di parole tipo incredibile straordinario strepitoso di fronte a delle cose che non erano né incredibili né straordinarie né strepitose e in qualche modo quindi Crudeli è stato contemporaneamente il punto più innovativo il punto più alto della narrazione sportiva il punto meno verbale anche e dopodiché è iniziata una inevitabile decadenza che forse dura tuttora e alla quale cerco di oppormi Gino mi lasci la conduzione io mi scuso per il ritardo avete parlato dei mondiali bene appunto allora noi come appunto avete capito parliamo di libri l'incontro era nato naturalmente in un'atmosfera completamente diversa tutto sommato avete parlato dei mondiali avevamo immaginato che fosse la postilla una stagione mondiale per l'Italia leggermente più felice di quella che poi realmente è stata ma comunque è vero che editorialmente sono arrivati in libreria tantissimi libri come accade per qualunque grande evento legati al calcio proprio in concomitanza con i mondiali però secondo me vale la pena visto che ce li siamo lasciati alle spalle e tutt'al più potremmo parlare poi sul finale del calendario del campionato che è uscito ieri tutt'al più potremmo parlare di questo come cosa diciamo imminente in realtà è interessante vedere come si è connesso in questi tre libri di Antonio Gurrado di Francesco Savio di Giancarlo Oliviano si è connesso lo stile al racconto del calcio perché effettivamente al di là di tutto c'è un modo di raccontare diverso nei tre forse Savio e Gurrado che poi hanno comunque lavorato insieme su anticipi e posticipi hanno qualche punto di contatto in più forse ma naturalmente ciascuno con la sua specifica ciascuno con la sua voce quello che li associa secondo me tutti e tre questi scrittori vengono da prospettive completamente diverse in realtà tu appunto e Francesco altri libri alle spalle di narrativa non necessariamente sportivi Antonio Gurrado come ha raccontato in fondo ha un testo che ci mette una certa soggezione nella sua bibliografia che è Voltaire Cattolico quindi uno si chiede come possa passare uno da Voltaire Cattolico a Ho visto Maradona ma magari c'è una relazione può a Tiziano Grudeli che è mio amico peraltro ecco e poi Giancarlo Oliviano invece appunto è stato lui ha cominciato con un libro che era diciamo così narrativo e lirico allo stesso tempo poi invece ha preso una strada particolare che è quella del reportage narrativo si era fatto notare con un testo che si chiama Le Ceneri di Mike che ricordate era legato a quella storia del traffugamento appunto della bara che conteneva della urna che conteneva le ceneri di Mike Buongiorno e poi invece ha fatto un libro molto bello molto intenso Invisibile è la tua vera patria che è un testo invece sull'Italia in declino si è andato per fabbriche di smesse ecco tutti e tre si sono trovati a uscire quasi contemporaneamente con libri uno un reportage che è insieme il tuo emotivo e intellettuale sul calcio dove c'è molto del tuo vissuto e gli altri anche se in fondo le voci potrebbero essere pure voci distanti dalle vostre di alter ego si sospetta si sente che c'è invece una connessione profondamente biografica o autobiografica per esempio faccio visto che Gurrado è stato l'ultimo a parlare vi faccio un esempio da questo libro che si chiama Ho visto Maradona e che racconta nella Napoli degli anni 90 quelle stagioni la seconda soprattutto quella che ha portato poi al secondo Scudetto del Napoli una stagione epica gloriosa irripetibile che ancora lascia un segno profondissimo nella città perché ti sottopongo questo stesso testo Antonio perché mi piacerebbe che tu raccontassi velocemente perché così poi passiamo anche agli altri che cosa poi significa a un certo punto fare quello che Compagnoni fa tutti i giorni cioè in realtà tu devi essere un creativo per poter raccontare con le parole il gesto calcistico perché nella sua diciamo così imprevedibilità c'è però un lessico che potrebbe essere del tutto standard del tutto prevedibile e che invece il telecronista come lo scrittore possono inventare di volta in volta partita dopo partita ti leggo dieci righe tue all'ultimo respiro del primo tempo una punizione di Maradona descrive l'unica parabola che possa consentire alla palla di superare tutti i difensori del Milan insieme e depositarsi sulla testa di Carnevale che insacca descrivendo una controparabola che scavalca Galli il Milan che ha trascorso il primo tempo a produrre gioco stantuffando palloni dal centrocampo all'attacco non solo non segna ma deve anche subire l'onta di una maggiore facilità del Napoli nel tirare in porta come se niente fosse tutte le palle passano da Maradona perfino una che vaga lungo la linea di bordo campo e sulla quale lui volteggia inseguito da un numero sempre crescente di difensori rossoneri i quali non riescono ad afferrarlo fino a che uno di loro non la colpisce timidamente di punta facendola uscire dal campo con Maradona che alza la mano sinistra per segnalare che non l'ha toccata lui con Maradona che annuisce fra sé e sé con aria compiaciuta mentre si appresta a battere la rimessa e ricominciare a fare il giocoliere per fortuna la radio non si vede niente altrimenti per una cosa del genere l'apparenza insignificante della quale due come mozzarella e anatomia avrebbero anche potuto non accorgersi uno come me sarebbe invece sprofondato in una ineluttabile cupezza aperte virgolette come spesso capita chi produce molto può raccogliere poco mentre può accadere anche il contrario disse il commentatore della Domenica Sportiva allora tu giochi anche con questo linguaggio della radio quindi nel momento in cui la partita non è manifesta le immagini non appaiono e lì l'invenzione linguistica è ancora più forte non c'è bisogno di scomodare se non l'avete fatto lo scomodo io ma così per finta Gianni Brera insomma i grandi scrittori di calcio per i giornali però voglio dire poi arriviamo anche a compagnoni interessante veramente vedere come uno deve trovare quasi per istinto il lessico giusto per quell'azione all'istante quasi e quindi vedi che io poi non volendo ho trovato il tono della telecronaca tutto sommato quindi su questo vorrei chiederti cioè cominciamo ad aprire un po' questa diciamo crepa che porta al discorso stile e racconto del calcio come si racconta il calcio forse Antonio comincia tu e poi magari facciamo un giro con loro sarò brevissimo anche perché non voglio monopolizzare la serata però dirò una cosa che spero faccia piacere a compagnoni e tramite lui a tutta la categoria dei cronisti e altro avvertimento parlerò del mio libro come se fosse noiosissimo in questo momento però vi assicuro che in realtà è molto più divertente di come io stesso lo presento e lo ricordo in realtà quando ho iniziato a scrivere questo romanzo sulla stagione calcistica 89-90 quindi scudetto al Napoli e soprattutto la famosa festa nazional popolare di Italia 90 che poi si è rivelata un po' fallimentare per vari motivi non solo calcistici ho detto vai adesso provo e faccio quello che un tempo si chiamava il romanzo storico cioè parto dai documenti e su questi documenti che mi imbastisco costruisco una scuola una storia verosimile ma immaginata e l'esempio che Paolo ha appena fatto è proprio un esempio diciamo così standard del procedimento che ho utilizzato cioè io ho fatto soprattutto un lavoro di ricerca di fonti e se io fossi stato appunto il famoso Manzoni che lavorava sul manoscritto del 600 le fonti sarebbero state gli storici del 600 Giuseppe Ripamonti e così via siccome io non so vi sarete accorti che non sono Manzoni e scrivo appunto su una cosa molto più recente di soli 25 anni fa i documenti storici su cui lavorare sono le radiocronache e tutto il calcio minuto per minuto i servizi della domenica sportiva che adesso in larga parte sono anche facilmente reperibili su Youtube e nel mio caso particolare qualche articolo della Gazzetta dello Sport molta unità perché il protagonista del romanzo è un giovane comunista c'è l'unità all'epoca diretta da Massimo D'Alema e soprattutto cuore diretto da Michele Serra e moltissimo moltissimo Guerin sportivo che all'epoca era il settimanale più autorevole e che insomma faceva opinione faceva polemica eccetera e la cosa veramente notevole è che o meno notevole ai miei occhi di scrittore che spero riesca a trasparire in maniera magari non farraginosa verso anche agli occhi dei lettori è che alla fine tutto quello che ci può sembrare è un chiacchiericcio non dico vano però quantomeno contingente adesso c'è tutta la cronaca sulle partite tutta la cosa che anche con grande difficoltà i cronisti riescono a raccontare all'istante vedendo l'azione descrivendola traducendola in parole tutte le varie polemiche i servizi televisivi e così via in realtà non vanno perduti quella resta tutta quanta una specie di massa potremmo dire una massa critica nella quale chi un domani dovrà raccontare queste vecchie stagioni in maniera più o meno letteraria o più o meno storica dovrà andare a pescare io mi faccio vanto e ribadisco che con ciò veramente sembra noiosissimo il mio libro io mi faccio vanto di essere andato con grande precisione a ripescare la determinata polemica fra ottima firma della gazzetta Claudio Gregori e Carieca del novembre del 1989 o le parole esatte di Enrico Ameri quando il Milan perse contro il Verona nella fatale partita dell'arbitro Lobello e così via perché il punto è questo cioè quello che i cronisti fanno adesso io non ritengo che vada fatta una distinzione tra narrazione sportiva di serie A e B non ritengo che bisogna dire noi siamo più bravi perché scriviamo i libri voi siete meno bravi perché scrivete i giornali o lavorate in televisione e viceversa sia un discorso di snobismo scemo in realtà io ritengo che siamo due lavori complementari in qualche modo noi abbiamo l'azione che è quella che avviene sul campo da calcio abbiamo la narrazione immediata di servizio che crea un primo mito per utilizzare il termine che viene usato anche nel titolo di questo incontro che è quello dei cronisti televisivi e poi dei quotidiani dei settimanali quei pochi settimanali che sono sopravvissuti e dopodiché abbiamo una seconda narrazione diciamo di sguardo lungo più calmo che però utilizza come humus esattamente quello che è stato creato dai cronisti cioè quindi i cronisti creano con le loro parole pensate al famoso triplice campioni del mondo di Nando Martellini non so quanto fosse preparato non so se avesse intenzione di entrare nella storia del mito fatto sta che se oggi o domani decidiamo di scrivere un romanzo sui mondiali dell'82 non possiamo non metterci il triplice campioni del mondo di come non potremmo non mettere i rete di Maurizio Compagnoni e così via cioè il punto è questo loro in qualche modo creano un appunto un humus di parole che è la prima argilla sulla quale poi noi che invece scriviamo libri di sport cerchiamo di fare letteratura non per superiorità ma proprio perché è un mestiere diverso e complementare diciamo su quella prima argilla noi dobbiamo lavorare cercare di modellare qualcosa che in qualche modo renda eterni l'oro e riesca anche il tripadisco a fare guadagnare qualche soldo a noi che scriviamo per fare e quindi è appunto vorrei sentire Maurizio Compagnoni è una questione di stile raccontare il calcio sempre voglio dire che uno come lei appunto che poi fa il mestiere di accompagnare lo spettatore diciamo così a seguire le azioni a seguire la partita deve aggiungere il suo stile e quello stile diventa riconoscibile quindi piacerebbe che ci raccontasse della sua prospettiva che cosa significa stare dietro a una partita al di là del mestiere però inventando sempre qualcosa mettendo qualche qualche cifra qualche accento particolare che poi rende memorabile comunque anche il racconto soprattutto aggiornandosi di continuo e provando di continuo a migliorare io nel momento in cui non avrò più la voglia di migliorare credo che mi metterò a fare altro mi è stato anche proposto di fare altro ma al momento continuo a divertirmi a fare questo a migliorare e continuo a fare questo io credo che nella narrazione televisiva ma anche in quella radiofonica comunque diverse da quella della carta stampata che ormai proprio a causa della televisione soprattutto parlo ovviamente di giornalismo sportivo sta cambiando il suo mestiere perché prima facevi giustamente riferimento a guerri sportivo che 30 anni fa faceva molta opinione era opinion leader probabilmente di guerri sportivo adesso il guerri sportivo ha esaurito la sua funzione è diventato un mensile perché addirittura se non perché i giornali i quotidiani sono stati costretti a trasformarsi in magazine perché alla fine sono dei magazine sono loro che fanno approfondimento perché la cronaca la fanno le le televisioni in diretta quando ero bambino mi ricordo comprova il curio dello sport la gazzetta dello sport c'era il paginone sulla cronaca della partita adesso ci sono soltanto le pagelle e qualche intervista ma soprattutto le pagelle perché tanto la partita l'hanno vista tutti le interviste l'hanno sentite tutti e alla fine che vai a leggere vai a leggere le pagelle noi almeno noi poi io non parlo mai al plurale perché credo che ognuno ha la sua personalità ha il suo modo di vedere la propria professione per me le cose fondamentali sono essenzialmente quelle vabbè innanzitutto di scrivere quello che succede ad esempio io se parlo da telespettatore se guardo una partita e il telefonista non mi dice il nome del giocatore che ha la palla mi nervosisco perché io quello voglio sapere io devo stare rilassato non devo stare concentrato a cercare di capire chi ha la palla seconda cosa spiegare quello che accade spiegare anche situazioni ad esempio io non mi metterò mai che ne so in una finale di Champions League a raccontare quello che fa il papà di un giocatore perché magari nel secondo tempo supplementare perché il papà ha voluto che il figlio diventasse portiere però racconto tutto ciò che è attinente a quella partita ma la terza cosa soprattutto è quella di trasmettere le emozioni a me quando non so mi arriva un messaggio di uno che ha apprezzato particolarmente il tuo lavoro e ti dice ah quando c'è stato il gol mi hai fatto impazzire sì mi fa piacere ma relativamente mi sono arrivati durante i mondiali un paio di messaggi che mi hanno fatto enormemente piacere quando mi hanno detto mi sono divertito moltissimo perché con te sembrava di stare in campo ecco quello è il complimento più bello perché il mio obiettivo è proprio quello cercare di di trasmettere le emozioni di portare il telespettatore dentro il campo io lo ammetto candidamente Brasile-Cile sul lino del Brasile mi sono emozionato e si capiva insomma l'ho anche detto non è che sono impazzito faccio fatica a parlare meno male che c'è il super spot per far capire proprio al pubblico da casa se non l'avete capito per televisione qui c'è un'atmosfera talmente emozionante con queste 60.000 persone che cantavano a squarciagora all'inno che è stato qualcosa di particolarmente bello perciò per me per il mio punto di vista trasmettere le emozioni è la cosa più importante cerco di riuscirci nel migliore dei modi evitando soprattutto come giustamente diceva lui di definire clamorosa una traversa non capisco perché tanti miei colleghi definiscono regolarmente clamorosa la traversa vi risulta qualche traversa differente dalle altre no poi è chiaro che se la palla rimbalza tre volte sulla linea lì il clamoroso ci può stare ma spesso scherziamo con mia moglie vedendo la partita ma perché il palle è clamoroso il palle è quello non è che si sposta d'altronde ha ragione ma penso che ci sia una connessione infatti l'intuizione di Gino Troli diciamo così di mettere insieme gli scrittori con appunto un esperto telecronista è interessante proprio per questo perché secondo me possiamo dire tranquillamente che è una questione di stile come dicevo prima e di aggettivi nel senso che effettivamente il lavoro che fa compagnoni è anche quello di trovare gli aggettivi giusti o addirittura non usare degli aggettivi se non è necessario usarli e in fondo è quello che fanno anche gli scrittori e poi come diceva giustamente Gurrado poi il tempo come dire salda il nostro ricordo il ricordo dell'emozione di una partita a chi l'ha raccontata è facile che uno ricordi quella voce quel rete rete o quel campioni del mondo detto in quel momento anche se effettivamente l'abbiamo vissuta con la nostra emozione questa si è aggiunta o è stata interpretata dal telecronista naturalmente farlo alla radio fare la cronaca radiofonica richiedeva più invenzione ma la sfida può essere perfino più faticosa in televisione proprio perché hai immagini in 10 secondi Gino lo sa perché mi conosce da quando ero così io sono cresciuto con i giornali locali e con la radio ho fatto tanta radio che è meraviglioso fare la radio a me fare radio piace da matti quando mi chiedono è più difficile fare radio o televisione parliamo ovviamente del commento in diretta della partita io sono convinto che se lo chiedo a tutti voi 9 su 10 mi rispondono è più difficile commentare la partita in radio no è più difficile in televisione ma non c'è partita perché in radio metti il pilota automatico per 90 minuti ma vi dirò di più se la partita è noiosa in radio la rendi bellissima io ingolfato nel traffico di Rio de Janeiro non mi sono visto il primo tempo della semifinale Olanda-Argentina che stavo tornando in albergo che ero stato in studio a Copacabana ho sentito il radio coronista brasiliano pensavo che fosse una partita io non capisco il portoghese pensavo che fosse una partita pazzesca poi ho scoperto che non era successo nulla in televisione puoi rendere la partita più bella ma non la puoi cambiare in radio sì oltre al fatto tu non so se hai sentito il mio racconto della telecronica di Radio 102 di Samet e Semonza in cui c'era il secondo tempo tutto pieno di nebbia dove la partita non l'abbiamo vista e io Pasquale Bergamasco l'abbiamo raccontata in radio si può fare anche questo senza vedere la partita a Sky quest'anno Sassuolo Milan i famosi quattro gol di Berardi il primo tempo c'era la nebbia non si vedeva nulla allora vengo a Francesco Savio e a Giancarlo Oliviano perché questo punto di contatto che poi c'è anche con il libro di Antonio Gurrado ha a che fare proprio con con l'emozione e con due parole che sembrano non tanto parenti che invece sono molto parenti cioè la poesia e il calcio è una cosa che si attiva quasi istintivamente nel racconto che fa Francesco Savio in questo libro molto bello che si chiama Il fuorigioco sta antipatico ai bambini il racconto procede di quattro anni in quattro anni e coincide appunto con una prospettiva sui mondiali di un io narrante che potrebbe anche poi forse coincidere con te in parte non so il campo finisce dove c'è la riga Spagna 1982 vi leggo anche qui le prime dieci righe comunque ricordo che non smettevamo fino a quando il buio non sovrastava le nostre idee di gioco peraltro elementari e non poteva certo essere altrimenti a otto anni difendere e attaccare tutti insieme alzando un polverone tattico forse di dubbio gusto per gli esteti ma così vivo difendere e attaccare quanto vorrei poter estrarre dalla mia memoria quelle infinite partite all'oratorio divise in segmenti rivederne le azioni principali come dentro un DVD o su YouTube ad esempio quel gol con il pallone respinto da un difensore disorientato appena fuori l'area di rigore sulla destra pallone figlio di un rinvio che si è impennato a campanile e avere l'intuizione chiara di quello strano effetto intuire prima dei compagni come la sfera rimbalzerà riuscire a catturarne il senso in controbalzo con il collo del piede e vedere partire una diagonale a mezza altezza che si infila teso e preciso nell'angolo opposto un diagonale a mezza altezza a volte penso ho avuto in dono l'idea di percepire cosa può significare essere un campione solo l'idea purtroppo anche se è ben chiara ma l'idea sì mio padre che mi dice vuoi vedere che diventi un giocatore di calcio ma poi muore e con lui pure io solo un ottimo giocatore da oratorio ancora inconsapevole del numero di oratori nella mia città in Italia nel mondo ecco questo squarcio diciamo del libro il fuorigioco stantipatico ai bambini mette insieme come ti dicevo quasi istintivamente la poesia la poesia del calcio la poesia e il calcio però leggendo il tuo libro che è pieno di scrittori comincia con Thomas Bernard evoca parecchi scrittori che anche c'entrano poco col calcio o c'entrano così tangenzialmente Sterazzi Turgenev è venuto in mente che in certe partite potrà confermare compagnoli di questi mondiali soprattutto quelle del latinoamerica sembrava che in campo ci fossero dei letterati spesso i bolagnos sentivamo sempre nomi che evocavano scrittori ovviamente nella nostra nazionale non c'era nessun gadda e nessun calvino curiosamente cognomi come dire che non si ritrovano però adesso a parte le battute insomma mi piacerebbe che tu raccontassi questa connessione come è venuta fuori nel tuo libro tra un aspetto poetico e il racconto calcistico e poi anche una letteratura che col calcio c'entra meno beh è nato tutto credo dalla mia formazione nel senso che mi definisco sempre un poeta e per la precisione un pessimo poeta nel senso che come mi è capitato da bambino di credere di essere un calciatore o di poter diventare un calciatore attorno ai 18 anni come molti scrivevo poesia finché non lessi una frase di Montaigne credo il quale diceva che fino a 20 anni tutti scrivono poesie e chi continua a farlo o è un poeta o è un cretino e quindi io spaventato da questo grande nome mi diceva visto che molto probabilmente sono un cretino è meglio che io continui a fare altro e poi il richiamo letterario è nato dopo nel senso come diceva prima Paolo ho scritto un paio di romanzi pur pensando di essere un romanziere di particolare talento e mi sono avvicinato il mio amore per il calcio è tornato poi dopo e forse quasi in maniera spontanea si è collegato ad alcuni scrittori o ad alcuni libri che avevo amato particolarmente e in un libro precedente a questo che era Anticipi e Posticipi che ho scritto con Antonio e in questo libro noi fingevamo di essere inviati lui nel passato io negli stadi della domenica calcistica italiana della stagione 2011-2012 e mi capitò quasi per caso di associare partite a scrittori scrittori quasi sempre morti poi infatti mi sono chiesto anche alla fine il perché però i miei scrittori che spesso entravano in campo erano Berto Bianciardi altri scrittori che ora non ricordo nemmeno e è vero che durante questi mondiali poi è vero che a volte sentendo qualche nome colombiano spagnolo avevo un attimo la percezione che fossero poi scrittori da Bolagno o altri e poi no credo che sia una mia peculiarità mi auguro almeno di cercare di trovare l'aspetto letterario del calcio anche perché non credo che esista poi una letteratura divisa per segmenti o per settore e che quindi esista un romanzo impegnato e la narrazione sportiva non lo sia Giancarlo Liviano d'Arcangelo ha scritto questo libro e vi dicevo Gloria agli eroi del mondo di sogno il gioco del calcio racconto fantastico di un universo mitico è un libro strano perché è un libro insieme appunto anche qua narrativo poetico è anche un'inchiesta è un modo di entrare dentro al calcio per una prospettiva che sia personale che sia invece anche più oggettiva tu mescoli spesso i piani e a differenza di quello che accade magari ovviamente nell'inchiesta che hai fatto sull'Italia in dismissione qui ci metti molto del tuo ci metti anche molto della tua esperienza autobiografica ed è bello questo passaggio continuo tra cose che ricordi tu cose che hai visto l'appendice finale sommessi per esempio che è il tentativo che tu fai secondo me anche di provare a fare un ritratto del calciatore di un calciatore non in senso astratto ma di un calciatore in senso concreto è sempre così difficile afferrare la personalità e l'eleganza del gesto di un calciatore non è soltanto lì il mito ma è anche qualcosa di altro dal mito ora succede una cosa a un certo punto di questo libro che tu parli di te appunto calciatore o comunque calciatore di provincia come molti italiani sono e sono stati però hai la prospettiva e su questo ti vorrei chiamare in causa del tifoso vero che è una prospettiva sempre molto diversa da quelli che possono amare il calcio seguire il calcio lo sa immagino bene anche chi fa appunto la telecronaca il tifoso vero ha una prospettiva sempre diversa su tutto e questo è il caso dici perdere le partite al fabbrica rossa era un'onta per me insopportabile nessuno dei ragazzi che venivano a giocare aveva a cuore la benché minima idea di sportività gli altri esattamente come me non sapevano nemmeno cosa significassero concetti di galantomia come l'onore dello sconfitto né ci commuovevano le geremia di che si sentivano nelle interviste agli uomini di sport l'importante è partecipare e roba simile charle così fasulle suscitava il nostro disprezzo nessuno poteva pensarla davvero così chi si dichiarava sportivo mentiva era un impostore tutte le aspirazioni che non coincidevano con la vittoria o con l'annichilimento dell'avversario erano nient'altro che posizioni strategiche ad appannaggio di chi era stato sopraffatto ossigeno per provare a ridurre il senso di vergogna anche perché era molto raro che una partita di calcio per noi a quel tempo non nascondesse posta in palio più alta che la trascendesse era in ballo la distinzione dei giusti dagli ingiusti la distinzione tra coloro che dovevano vivere e coloro che dovevano morire su questo ti chiederei di fare un commento anche per raccontare un po' il tuo libro hai scelto un passo abbastanza esplicativo poi dello spirito profondo del libro perché il mio tentativo sin dall'inizio è stato quello di appunto riportare in auge in qualche modo questo paragone questo rimando gioco di rimando continuo tra il mito del passato Antonio giustamente ha citato Omero poco fa è la narrazione calcistica dal mio punto di vista quando mi sono approcciato a scrivere un libro sul calcio che da un certo punto di vista era anche un mio piccolo sogno di narratore poi quando c'è stata l'occasione mi sono trovato di fronte al grande interrogativo dove mi sembra così percependolo da lontano mi sembrava una cosa molto semplice arrivare a narrare il calcio invece manovrando la manovra la materia da vicino mi sono immediatamente accorto che invece narrare il calcio è una cosa difficilissima e qui nessuno meglio di Maurizio Compagnoni potrà confermare questa cosa visto che lui poi ha la necessità di 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 calcio quella che poi Baudelaire chiamava la verità enfatica del gesto nelle grandi circostanze della vita è una cosa difficilissima in realtà le immagini quello che succede l'immanenza di quello che succede supera sempre la voce del racconto la voce del narratore in qualche modo quindi per poterlo fare la strada più più breve la strada più bella la strada più interessante mi sembrava appunto quella della narrazione ibrida tra il calcio che tutti quanti abbiamo visto in televisione il mio vissuto personale dell'infanzia il cortocircuito mi sembrava assolutamente perfetto nel momento in cui mi sono accorto man mano che lavoravo a questo libro che qualsiasi scoperta della mia vita d'infanzia ovvero dei grandi assoluti della vita di ciascuno di noi vale a dire il fallimento l'amore la vittoria la gioia pura del trionfo eccetera eccetera erano tutte cose anche la morte stessa che ho scoperto per la prima volta quando Scirea nel 1986 lavorando per la Juventus in trasferta in Polonia fece un incidente stradale e morì tutti questi grandi assoluti della vita io li avevo scoperti in qualche modo attraverso il calcio di lì è nata poi tutta la narrazione del libro nel pezzo che tu hai letto io racconto appunto qual era lo spirito di noi ragazzini che ci rapportavamo alle partite di calcio in strada in qualche modo era appunto questa necessità assoluta della vittoria che un po' ovviamente con l'inconsapevolezza che si possono avere a 6, 8, 10 anni era la stessa ammirazione per la vittoria che appunto ritroviamo nella narrazione america dove nel mondo greco non esisteva il discorso della moralità nel mondo greco che era un mondo in realtà straordinario dal mio punto di vista ma anche molto crudo anche molto violento erano le imprese erano i gesti erano i risultati che contavano da qui poi tutta l'importanza della come dire della vicenda sociale sportiva che si in qualche modo si trovava la sua meravigliosa narrazione in Olimpia e negli Olimpiadi e quindi ho cercato proprio di recuperare attraverso questo filtro che era tutto il mio ricordo del passato tutto il ricordo della mia vita trascorsa poi dell'infanzia in strada basata totalmente sul calcio per riuscire a cercare di recuperare lo spirito appunto di questo straordinario immaginario mitico che fa sì che poi tutti quanti noi oggi in qualche modo ci rapportiamo a degli eventi che non ci riguardano in prima persona e questa era un'altra delle grandi domande che io mi sono fatto come è possibile che un evento che non mi riguarda in prima persona in cui io non sono protagonista e che magari si svolge a 3.000 o a 10.000 chilometri da me in qualche modo mi prende mi ruba fin nell'interiore fin nelle viscere e mi fa esplodere una passionalità incredibile e insieme a me altre 3 miliardi di persone magari come è successo nei mondiali in Brasile la domanda secondo me alla quale bisognava rispondere era questa e ho scoperto che probabilmente la risposta era che il calcio per moltissimi di noi è una grande guida nella scoperta della propria identità è una grande creazione dell'identità ed è per questo che diventa mito ecco per avviarci diciamo così a fare l'ultimo giro perché fa caldo e perché magari non è proprio presto però e perché immagino che molti vogliano comunque poi sapere quindi lascerò da ultimo la parola a lui adesso non chiediamo ovviamente né pronostici né niente ma insomma però la sua prospettiva sul campionato che comincia questa sì molto generale senza diciamo specifiche o effettive previsioni però è ovvio qui futura festival la parola che circola in tutti gli incontri del futuro che il calcio abbia un futuro questo è assolutamente evidente i tre libri che stasera abbiamo provato a raccontare anche se in poche battute hanno a che fare anche col passato del calcio come si è capito insomma con con il lungo e mitico passato del calcio ma non soltanto in senso assoluto nel senso appunto che rimanda addirittura agli eroi delle olimpiadi dell'antica Grecia della classicità ma anche del passato nostro collettivo della somma di memorie personali individuali che poi fa il racconto di questi anni cioè voglio dire che la storia di un paese qui si sente moltissimo in ho visto Maradona nel fuorigioco stantipatico ai bambini in gloria agli eroi del mondo di sogno si sente tantissimo che noi ricordiamo anche perché abbiamo vissuto da tifosi più o meno accecati da tifosi più o meno implicati la nostra storia la storia di un paese la storia del mondo anche legandola spesso al calcio si può fare sempre una controstoria di un paese e a maggior ragione di un paese come l'Italia tutta questa premessa per dire qui c'è molto passato ovviamente il vostro personale quello collettivo ma se doveste mettere insieme la parola futuro e calcio che cosa vi viene in mente così anche istintivamente e poi rispetto effettivamente così alla prossima stagione a quello che accadrà di qui in avanti quando riparte il campionato qual è la vostra il vostro il racconto il racconto dove comincerebbe me la metto in questi in questi termini ma io credo che il futuro mi auguro e credo sia sempre nel gesto tecnico nel senso che il titolo di questo dibattito era appunto il calcio tra mito e futuro per quanto mi riguarda il mito era qualcosa di sacro e il mio aspetto sacro era ed è l'infanzia e quindi andavo a collocare questa sacralità nella mia infanzia che sono gli anni degli anni Ottanta e quindi al calcio degli anni Ottanta che ha rappresentato qualcosa di straordinario innanzitutto perché io ero bambino ed ora non lo sono più e forse anche perché c'erano forse dei protagonisti degli attori che oggi è difficile scorgere tuttavia non vorrei cadere nell'errore di di apparire un nostalgico e credo che pur cambiando le situazioni pur avendo a che fare a volte con personaggi come età vecchio magari che parlano di banane se il futuro è questo c'è veramente da mettersi le mani nei capelli tuttavia credo che ci sarà sempre comunque il campione il gesto tecnico il bello l'aspetto estetico dello sport e anche tattico prima al bar parlavamo di Sacchi di altri c'è di altri protagonisti del calcio che in un certo qual modo sono quasi dei mistici e quindi finché ci saranno credo queste persone e la bellezza del gesto si troverà credo mi auguro la bellezza della poesia e della filosofia nonostante tutto nonostante il cambiamento delle regole e altre cose dunque rispetto al futuro del calcio devo dire che come dire sono abbastanza convinto che il calcio sia quasi sempre lo specchio in come dire in un vetrino da microscopio della società che lo circonda in qualche modo non credo che come molto spesso si dice il calcio convogli oppure sia fonte di negatività che poi si riversa in qualche modo nel sociale penso piuttosto che piuttosto sia molto spesso il contrario ovvero che la malattia sociale in qualche modo finisca per sfogarsi attraverso il calcio che è sempre un grande spettacolo di massa e quindi convoglia a sé un'enorme quantità di sguardi in particolare il cambiamento secondo me si può verificare anche in maniera molto banale attraverso come giustamente Paolo prima ha detto attraverso il cercare di riscontrare la psicologia del calciatore la differenza che io riscontro anche qui senza essere voler essere particolarmente nostalgico tra i calciatori che io ritengo dei modelli eroici del passato come possono essere per esempio Roberto Baggio Maradona in qualche modo rispetto a quelli che possono essere invece i grandi eroi calciatori del nostro tempo riguarda un po' la loro conoscenza della vita la sensazione che io per esempio prima abbiamo citato Balotelli Balotelli secondo me è una figura abbastanza simbolica e archetipica che riporta la dinamica letteraria dell'eroe e dell'anti-eroe noi vediamo che in qualche modo anche quando lui è sempre lì per diventare eroe come è successo in questo mondiale dopo il gol all'Inghilterra per esempio immediatamente quasi come se possedesse un'essenza come dire che lo distanzia dal ruolo dell'eroe immediatamente lui poi fallisce non è secondo me un discorso di destino che viene dall'alto è proprio un modo di essere un'essenza personale se noi pensiamo per esempio a Baggio e Maradona vediamo che nei grandi momenti della loro carriera nei grandi momenti loro escono sempre fuori come grandissimi eroi basta pensare al mondiale 86 con Maradona nella grande partita con l'Inghilterra in cui più che una partita di calcio era veramente per lui lo descrive straordinariamente sia nel suo libro nella sua autobiografia sia in altri momenti insomma in interviste nel film che ha fatto con Kusturiza racconta proprio come dal suo punto di vista quella era una partita che riguardava veramente tutto quanto un paese lui tira fuori la più grande prestazione della sua carriera in qualche modo lo stesso Roberto Baggio che dà sempre l'idea di essere un uomo che fugge quando gioca a questa andatura da gazzella che scappa che cerca di mettersi in fuga e poi invece tira fuori dei gesti tecnici di straordinaria bellezza come il gol per esempio contro la Cicoslovacchia nel mondiale 90 sempre saltando gambe come se fosse veramente in fuga da un predatore la mia idea spero supportata poi dai fatti sia che appunto questi calciatori avessero dentro loro una conoscenza della vita un approccio alla vita più tridimensionale rispetto ai campioni di oggi che mi sembrano che sin dalla giovane età crescano in un ambiente molto più avattato molto più circondato da collaboratori insomma tutti quanti sappiamo che i calciatori di oggi soprattutto quelli ad alto livello hanno collaboratori per tutto per fare i biglietti aerei per cioè al di fuori del come dire della routine quotidiana sono veramente personaggi che sembrano non conoscere la vita io ora sì sì sembra che abbiano veramente le cuffiette io ho lavorato con Del Piero in Brasile che non è sì gioca ancora ma insomma si è presentato con l'assistente personale e il fotografo personale che vivono con lui cioè erano in Australia con lui assistente e fotografo personale quindi mi sembrano veramente personaggi perfettamente che cavalcano la società dello spettacolo invece mi viene in mente ad esempio un numero 10 straordinario che sicuramente qui ricorderete tutti come poteva essere Pietro Maiellaro che era un giocatore che è cresciuto nella Puglia tra le squadre di provincia della Puglia ed era talmente radicato con la vita del suo territorio con la verità della vita che nel momento in cui ha cercato di fare il salto di andare a giocare alla Fiorentina quindi non non lo so al Bayern Monaco al Real Madrid all'estero eccetera ma semplicemente spostarsi dalla Puglia alla Fiorentina si trova completamente sperduto tanto da poi da ritornare indietro a giocare di nuovo al sud perché il sud era la sua terra e solo al sud lui si sapeva muovere quindi questa mi sembra la differenza tra i calciatori di allora e i calciatori di oggi Messi è proprio la figura che io nel libro richiamo il paragone di Bart con l'uomo oggetto il calciatore che sostanzialmente si comporta come un androide ha sempre dei movimenti che sembrano quelli del videogioco poi all'interno di un meccanismo problematico non sa più come muoversi ma Radona nella problematicità tirava fuori il genio questa era la differenza dal mio punto di vista io temo di dover dire una cosa ingrata io non non sono favorevole al futuro applicato allo sport non nel senso che sono scettico non proprio nel senso che sono contrario cioè due motivi sostanzialmente ve li spiego sinteticamente abbiamo tempo fino alle 3-3 e mezza da quanto c'è quindi se ce la facciamo allora prima cosa è questa il calcio ma vale per qualunque sport funziona perché è il perfetto equilibrio funziona nel nostro immaginario perché è il perfetto equilibrio di mito e rito mito perché questa è una cosa che non dico io lo diceva un signore un signore coi baffi che ha scritto il più bel romanzo sportivo della storia lui si chiamava Ernest Hemingway e il romanzo si chiama Fiesta il sole sorge ancora e racconta dell'eterna sfida fra l'uomo e il toro nelle corride e dimostra chiaramente come la costruzione del mito sportivo stia nello scontro fra l'uomo e la forza brutta del suo limite che in quel caso viene simbolizzata perfettamente dal toro che in qualche modo è insuperabile che può portare alla morte ed Hemingway spiega proprio questo cioè che il mito dello sportivo in questo caso del torero si basa proprio sulla sua capacità di fronteggiare il proprio limite e cercare di superarlo però intanto funziona in quanto mito in quanto è basato e inchiavardato sulla ripetizione sul rito appunto sul fatto che la corrida se il torero piglia una carabina e spara il toro non è che ha migliorato il proprio ha migliorato il proprio limite assolutamente no il fatto appunto il suo mito si basa proprio sul fatto che lui deve compiere determinati gesti e compiendo questi determinati gesti centimetro dopo centimetro millimetro dopo millimetro deve spostare il limite della resistenza umana oltre il toro quindi da questo punto di vista ritengo che lo sport funzioni soprattutto se guarda all'indietro piuttosto che al futuro cioè nel senso si deve pensare al futuro come a un futuro di piccoli passi non a un futuro appunto di android non bisogna pensare al centometrista se voi pensate al centometrista che fa il record della velocità sui centometri appunto in teoria il centometrista perfetto è quello che arriva nel momento in cui è partito cioè che fa il record di 0 secondi 0 centesimi ovviamente questo è impossibile però questo è il futuro di maggior gittata che possiamo immaginare bisogna sempre pensare al limare e questa è un'altra cosa che non dicevo io ma dicevo un altro grande giornalista storico dello sport che è Giampaolo Ormezzano il secondo motivo è che in qualche modo proprio per la magazzinizzazione dei quotidiani sportivi di cui parlava compagnoni poco fa il futuro sta fagocitando la narrazione sportiva vi faccio un esempio concreto io un paio di anni fa ero andato a letto presto eccezionalmente perché non stavo molto bene non avevo visto una partita di Champions League fra Barcellona e Bayer Leverkusen la mattina dopo altrettanto eccezionalmente mi sveglio tardi corro al lavoro a lavorare sulle segesi biblica del settecento francese e solo una volta arrivato in studio mi rendo conto con grande rimorso che non so il risultato della partita della sera prima quindi faccio quello che qualunque persona sensata farebbe cioè apro il sito della Gazzetta dello Sport e controllo il risultato beh non c'era cioè sulla home page della mattina dopo la Gazzetta dello Sport una persona che come me avesse dormito anziché guardare la partita non poteva sapere il risultato ma riusciva a trarre come notizia principale della giornata la seguente Guardiola ha allenato il Barcellona perché faceva freddo portando al collo una sciarpa di colore nero-azzurro quindi potrebbe essere il prossimo allenatore dell'Inter tradotto a noi non ce ne frega niente di come è andata la partita ieri quale sia il risultato chi ha vinto a noi interessa solo e soltanto quello che potrebbe essere adesso non voglio muovere una critica a Sky anche perché sono compagnoni mi tira il microfono nelle gengive però tutta la pletora soprattutto di articoli oggi di commenti di stelline sul calendario di calcio che alla fine è una griglia vuota e un po' e ci sia bene per l'estate però non si può andare avanti tutto l'anno a parlare solo di quello che potrebbe star per succedere la narrazione sportiva si basa appunto su quell'humus io conosco solo la prima giornata del campionato perché per me è fondamentale per capire se posso allungare le ferie ecco perfetto infatti spero tanto di fare Roma-Fiorentina il sabato sera in modo da poter allungare le ferie fondamentale perché c'è una guata a Milano-Lazzo invece mi costringerebbe a tornare a Milano questo mi consola gli esseri umani sono fra noi quindi il dato di fatto è proprio questo cioè non bisogna fare in maniera tale che la chiacchiera indistinta su quello che potrebbe essere in futuro nello sport quale sarà il futuro nazionale quale sarà il futuro con Tavecchio senza Tavecchio e così via fagociti la narrazione sportiva la narrazione sportiva guarda al presente in virtù del passato cerca di trovare nel presente il mito di Hemingway facendo riferimento al rito che è tutto quello che come ci ha dimostrato Giancarlo come ci dimostra anche il libro di Francesco il rito tutto il retaggio che abbiamo avuto reiterato nel corso della storia dello sport che è giunta fino a noi i compagnoni voglio ringraziare Vangelo Salonardi che è qui con noi che è la compagna di Maurizio ed è anche importante da giornalista di Sky che è qui con noi questa sera non l'abbiamo fatta intervenire ma ha seguito attentamente ecco ecco quindi tocca adesso a Maurizio compagnoni la chiusura è tua e naturalmente come ti dicevo non è che devi fare un pronostico però come le sensazioni hai sfondo un po' di società tra cui quella per cui ti faggino sul mercato prima voglio dire una cosa rapidissima su Balotelli non c'eri ma prima l'ho un pochino sfondato però voglio dire una cosa molto bella che umanamente è una bella persona c'è stato un episodio che a me ha colpito moltissimo quando giocava al Manchester City lui vide ma l'episodio è vero non è leggenda vide un bambino a testa bassa tra le lacrime lui l'ha voluto conoscere gli ha raccontato la sua storia che era vittima di bullismo l'ha accompagnato a casa ha preso la mamma e il giorno dopo si è presentato a scuola lui la mamma e il bambino e ha voluto un incontro con i compagni di classe che lo sbeffegge insomma l'avevano ridotto alle lacrime questo vuol dire più dei 500 euro non so 500 stelline date al barbone che per carità è un bel gesto però secondo me per lui è come dare la mancia per noi però quello è stato un gesto molto molto bello visto che prima avevo detto che per me non è un campione e lo confermo anche se è un talento però umanamente è molto meglio di come lo dipingono allora come va a finire il campionato nuovo beh difficile dirlo perché il mercato è in corso diciamo che al momento sono i soliti problemi del calcio italiano che in mano ha dirigenti non sempre all'altezza voglio essere molto carino però è un mercato che non capisco non capisco perché io debba spendere più di 40 milioni per tre giocatori che faranno panchina non capisco perché l'Inter debba spendere 9 milioni per Dodò che alla Roma erano disperati e compra giocatori che non riesca a capire come potranno coesistere penso a un vilà e Medel se dovesse arrivare che peraltro a me piace molto tra l'altro un vilà mi hanno detto un grande talento ma molto le discoteche certo che se va a Milano insomma potete immaginare quello che può combinare il mercato del Milan faccio fatica proprio a capirlo una volta l'ho detto più di una volta è una volta chiamato Cagliani che poteva anche non chiamare per quanto urlava si sarebbe sentito comunque capisco il mercato della Roma anche se i soldi per i turbi sono veramente tanti ma io stravedo per quel ragazzino americano che la Roma ha preso anche se non arriverà subito a 3 milioni e 700 mila euro 5 milioni di dollari che per me è un potenziale enorme non capisco i tanti nomi che ruotano attorno alla Fiorentina come direbbe Di Pietro che ci azzeccano con la Fiorentina pensami che è il velozzo Kurtis insomma è il solito mercato all'italiana dove ci sono poche idee e particolarmente confuse però ecco nonostante i 40 milioni spesi male dalla Juve la Juve resta comunque decisamente la squadra più forte e ai nostalgici di Conte dico che purtroppo per loro hanno perso un grande allenatore ma Allegri è un'ottima soluzione Grazie allora Maurizio Compagnoni voglio stanto ricordare i tre libri perché è un invito alla lettura e sono tre libri molto belli Gloria agli eroi del mondo di sogno di Giancarlo Oliviano d'Arcangelo pubblicato da Il Saggiatore eccolo qua questo è di Giancarlo Oliviano e Ho visto Maradona di Antonio Gurrado pubblicato da Ediciclo è un romanzo e così è un romanzo Il fuorigioco sta antipatico ai bambini sempre pubblicato da Ediciclo ed è di Francesco Savio vi invito a leggerli molto caldamente grazie e a Gino la conclusione oppure l'appuntamento a domani grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti